Sarà dedicato al tema del lavoro, diritti e stato sociale della nostra Europa il tradizionale corteo del 1 maggio organizzato dalla segreteria provinciale CGL Cisre Willi di Teramo che si svolgerà come tutti gli anni a Giulianova. Il corteo sfilerà dalle ore 9.30 in via Matteotti e si concluderà con l'intervento della segretaria confederale CGL Rossana Dettori. Bisogna rimettere in campo la partecipazione, la partecipazione di questa festa perché è una festa che vuole segnalare che il lavoro, i lavoratori devono in qualche modo rendersi protagonisti del loro futuro e oggi quest'anno tra l'altro la festa è dedicata all'Europa, all'Europa perché il lavoro in qualche modo va difeso soprattutto anche a quel livello, abbiamo bisogno di normative che recuperano la frammentazione che insomma c'è stata in tutti questi anni, la disuguaglianza che c'è stata in tutti questi anni, ci sono noi diciamo che c'è bisogno di politiche fiscali che siano europee, politiche normative del lavoro che siano europee e lì è il contesto nel quale noi dobbiamo provare a recuperare e a tutelare il lavoro. È un tema che non possiamo pensare che noi lo possiamo affrontare all'interno dei singoli territori e neanche dei singoli paesi. Dobbiamo proprio sapere che a quel livello vanno in qualche modo ricercate e definite le normative e per questo noi diciamo e ci auguriamo che la prossima campagna elettorale in pratica soprattutto parli di questo, parli di lavoro e come il lavoro si tutela e come il lavoro si crea.